Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Erika. Nel video di oggi apriremo l'ennesima mystery bag di Pink Panda. Questo è il volume 2 della precedente mystery bag. Se ve lo siete perso ve lo lascio qui e in info box. Avevamo già aperto un'altra bag, ve l'avevo detto che poteva esserci un volume 2 o cambiarla e hanno fatto appunto con esaurimento scorte il volume 2. E chi siamo noi per non provarli? Fatemi sapere qua sotto nei commenti se volete vederne altre, se vi piace, appena la cambieranno ne comprerò un'altra. Come nello scorso video c'erano degli spoiler, io ovviamente non ve lo dirò, ma comunque credo che saremo sempre più o meno sugli stessi prodotti, ma non ve lo dico, guardate il video. Ovviamente ricordatevi di iscrivervi eh, se no 7 anni di sfiga. E lasciare un pollice in su se questa tipologia di video vi piace, mi raccomando commentare perché vi leggo sempre. Il prodotto arrivano più o meno qua ed è anche semitrasparente, mi vedete? 3, 2, 1, pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi. È con un ordine di 30 euro con il quale io ho acquistato lo screen, lo screen, lo screen? Lo screen realist di Nabla che uscirà subito dopo questo video, la recensione. E niente, ovviamente spese di pensione e pagamento a parte. vi faccio sbirciare così vediamo se capite andiamo a pescare la prima cosa ovviamente la prima cosa è una cosa incelofanata però voglio me la pescare qui sotto poi c'è un'altra cosa iniziamo con questa dai stessa identica maschera della scorsa bag per l'amore di io mi è piaciuta ve l'avevo detto e mi sono dimenticata di metterlo nei finiti quindi magari la riprovo e nei prossimi finiti vi do una recensione più completa sia della prima che della seconda provata è una maschera che assolutamente si deve mettere col pennello con le mani contiene zenzero minerali della polvere vulcanica e la zucca va tenuta su 15 minuti non far asciugare molto collosa all'interno contiene anche dei granuli che subito non vi fanno un effetto chissà che ma quando andate a togliere vi fa uno scrub infatti c'è anche scritto da qualche parte non mi ricordo cosa che eccola qua gently warm and exfoliant quindi vi fa anche un'esfoliazione in più appena la mettete seriamente brucia non brucia nel senso che vi fa male è caldissima poi sparisce dopo qualche minuto e mi era piaciuta aveva dato una bella era bella luminosa bella fresca e aveva fatto anche uno scrub quindi la pelle era bella liscia andiamo alla seconda andiamo a questo un prodottino di revolution andiamo ad aprirlo è un rossettino credo ha la parte opaca e la parte lucida non è assolutamente magnetico raghi è bordeaux è fucsia cioè per paragonarmelo facciamolo swatch bellissimo super pieno super opaco quando mai lo utilizzerò io questo prodotto che questo è il massimo di rosa malva che utilizzo però queste cose sono carine perché essendo che si sfumano poi le potete utilizzare anche come basi per gli ombretti o ci potete fare un eyeliner secondo prodotto rossetto quindi siamo un make up e un skin care quindi siamo a due se vi ricordate vi avevo detto che potevano esserci da tre a cinque prodotti misti con accessori make up e skin care o make up e skin care io credo che qua ci hanno fregati sono solamente quattro sapete prendo la cosa in celofanata che non ho idea di cosa sia io pensavo fosse le cuffiette da sentirlo da fuori pensavo fossero le cuffiette quelle per le skin care o per truccarsi è un prodotto di make up obsession è il mio primo prodotto di questo brand allora come anche il prodotto di make up evolution della cipria è arrivato il pan sotto il pan staccato però questo generalmente ecco basta schiacciarlo e si toglie dovrebbe essere un illuminante sì highlighter 104 moon facciamo lo svocino super luminoso ma ragazzi anche super polveroso bello eh bello ma è un po' polverosino bello dai andiamo all'ultimo prodotto che io già so fa che non c'è più niente e questo era lo spoiler in questa bag come l'altra volta potevamo trovare dovevamo trovare il rossettino quello che cambiava colore qua trovavamo per forza di cose una palettina non si sapeva quale della collezione di revolution per friends in realtà io volevo acquistare qualcosa della collezione poi non so perché non è che mi ispiravano molto questo è il pack secondario è della palette intitolata Monica chiamata Monica questo è il pack primario identico al pack secondario e qui troviamo le cialde devo dire che io me l'aspettavo molto più piccola forse della grandezza dello specchio non so perché in realtà è bella grossa e le cialde sono belle grosse e sono anche colori addirittura che io utilizzerei molto più freddi ce ne sono anche caldi vi faccio qualche swatch ho svociato tre colori a caso ovviamente presi così non è che hanno molto senso ma è molto carina molto carina credo che però questa non sia stata pensata tanto quanto l'altra in effetti io le ho prese tutte e due appena diciamo uscite appena le hanno messe cambiate però non ci vedo tanto senso nel senso la palette si è neutra calda però l'illuminante è molto freddo rosato e il rossetto è molto fucsia non saprei come poter aggrappare i prodotti ci sono rimasta male che c'erano solo quattro prodottini mentre l'altra volta abbiamo trovato il massimo cinque e ci sono rimasta male di aver trovato un po' forse le solite cose non lo so vabbè queste skin care per liberarsene l'hanno messa però dai il resto non è proprio uguale l'altra volta abbiamo trovato uno marrone non abbiamo trovato l'illuminante quindi è qualcosa di diverso se dovessi dare un voto innanzitutto la mia preferita sarebbe quella dell'altra volta perché era molto più completa molto più pensata molto più carina però anche questa mi è piaciuta molto la palette credo che la palette da sola valga più o meno sui 10-12 euro invece questa appunto non aveva un prezzo di 29 euro 30 euro ma aveva un prezzo un valore di 22 euro quindi ovviamente ci doveva essere meno roba quindi fatemi sapere nei commenti per chi ha visto o è andato a vedere anche l'altro video quale vi è piaciuto di più o magari nel prossimo video dove ci truccheremo magari li proveremo insieme anche perché appunto non saprei questo rossettino come utilizzarlo il colore se vi interessa comunque cupcake 137 di questa linea con questo pack vi saluto vi mando un grosso bacio ricordatevi di iscrivervi al canale e lasciate un pollice in su noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao